E' questa, indossa un agito che viene dallo sonno. Come avete notato, per tutti i nostri abiti abbiamo questa, questa spalliera così alto, per far discutere che siamo da tutti i figli, questo è tradizionale, proprio dove stavano i primi figli, anche gli sposi gli stavano questo agito. E per fine Rose, ora è moderna. Questa ora è un appunto moderno, perché io faccio ora con la torre. Grazie. 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 Adesso faremo pure presentare e spinare un po' dei nostri abiti, costumi, etnici. Questo abito, costume e proprio da musulmana E diverso quello da prima Perché quello da prima è abbaduto in tati E per nanno, è anche solo in giocco E per nanno, è anche solo in giocco E per nanno, è anche solo in giocco E per nanno, è ancora di vista Io ancora, di quella è stata in grossa Per i nostri costumi, sono i giorni Questi costumi viene da la palana E sempre vista il campionato E allora questi costumi Maghilye, ma l'isola di mio pop Wait, Cij! Cij! Madonna, ma l'isola di mio pop colana allora questa signora è da Lucia e ancora c'è è un commerciante così si investono le donne commercianti da Lucia e qui le voglio riuscire a prendere delle cose anche in casa pensate un po' allora